ci siamo persi i bambini vuole mettere in evidenza un problema quello che la maggior parte dei genitori e degli educatori di oggi, accompagnati dai media che li fanno da eco, pensano che i bambini siano la fonte della preoccupazione e allora la metodica che ne deriva è quello di dover gestire il loro tempo, di doverli organizzare continuamente per farne quello che emerge dalle ricerche dei piccoli cattolavori. A mio modo di vedere, il libro aveva questa pretesa, un po' sovversiva, è quella di riportare invece l'attenzione sui bambini e di considerare il fatto essenziale che sono persone che non hanno solo diritti e doveri ma che devono essere accolti per quello che sono. E qual è il problema che metto in evidenza? Da un lato l'adultizzazione, sempre più precoce dei piccolissimi e a cui fa da contrapunto l'infantilizzazione massiccia degli adulti. E quindi faccio sorridere in pagine rivolte a un grande pubblico spiegando perché i madri e i padri si vestono nello stesso modo dei loro piccoli, perché andiscono a fare gli stessi giochi, perché lo sport non è più uno strumento mentale oltre che fisico per imparare a pensare che si può compendere senza confliggere, ma diventa invece la prova provata delle capacità di questo essere che deve diventare esemplare, unico e assoluto. E quindi il libro è un po' una denuncia, una denuncia lieve a tutte quelle modalità degli adulti di apparire infantili e non a caso si apre con la fiaba dell'autonomia, quella di Pollicino che da solo ce la fa e ce la fa per tutti i suoi fratelli e con la fiaba dell'eterna dimensione infantile, quella di Peter Pan, che rappresenta il mondo adulto che non vuole crescere. In un continuo rinvio tra i grandi e i piccoli e soprattutto tra i grandi che si mescolano ai piccoli. La dimensione prevalente dell'adulto di oggi è quella di cercare complicità e quindi non più un essere responsabile, il grande, che si allea con i piccoli in vista di un progetto educativo, di un progetto morale o di un progetto politico, ma qualcuno che pensando di mettersi sullo stesso piano ne vuole diventare amico e complice. Sostengo che la preoccupazione diventa l'alibi dell'attenzione, sostengo in qualche modo che la caratteristica precipua della postmodernità è quella però di non far crescere i grandi che continueranno così ad essere i maggiori fruitori di gadget che con l'alibi dei figli continueranno ad usare loro stessi e quella di far crescere i bambini sempre più in fretta per poterli considerare colleghi dei loro sentimenti, delle loro sventure e dei loro problemi. In fondo è un libro che cerca di rimettere la condizione infantile nella sua centralità e di riattribuire agli adulti. Quella parola magica che dalla società senza padre in poi è andata svanendo che quella della responsabilità